Era già evidente che la mancanza di accesso a internet era una delle cause principali delle crescenti disuguaglianze tra cittadini europei ed è una forma importante di emarginazione sociale. La pandemia non ha fatto altro che metterlo dolorosamente in evidenza e nel contesto della ricostruzione dobbiamo tenerne conto come una nostra priorità. La mancanza di accesso a internet non solo produce isolamento e solitudine ma ormai logora profondamente anche l'uguaglianza di fronte ad altri diritti come l'accesso alla sanità, alle cure, alla scuola, all'università e non solo con il digitale si è vista democratizzata la possibilità stessa di intraprendere le attività che ci permettono di guadagnarci da vivere. Comparativamente chi non può accedere o accede con poca qualità alla rete si trova in una situazione di grave e ingiusta inferiorità. Il divario digitale è un problema che ha conseguenze molto gravi come lo ebbe l'analfabetismo e infatti non è facile immaginare quante fratture si creino con un'impossibilità di accesso alla rete. In questo senso internet è uno strumento ma anche una fonte di ispirazione. L'equità è una componente strutturale di internet così come lo conosciamo. Infatti si basa su un principio profondamente democratico quello della neutralità della rete. Come sapete questo principio di non discriminazione del flusso per motivi economici o di altra indole è un elemento sine qua non per il suo funzionamento. In questo contesto vorrei affermare che l'accesso a internet dovrebbe essere considerato come un nuovo diritto umano. Cominciamo a discuterne e dobbiamo non solo sviluppare iniziative ma trovare anche possibilità legislative per regolare tutto questo. Credo che internet debba diventare un servizio pubblico accessibile a tutta la popolazione come nel caso dell'energia elettrica o di altri servizi considerati essenziali. Un servizio pubblico che permetta non solo a tutte le persone di poter agire partendo da circostanze eque e in questo modo essere anche una parte attiva della ricostruzione.